Dai videogiochi al cinema finalmente sta arrivando e sembra sulla buona strada Uncharted dalla Playstation al grande schermo con Tom Holland e Mark Wahlberg ma questo trailer ci ha convinto oppure no? Vediamo Avventurieri di tutte le età di Lega Nerd un saluto da Giacomo Tom Holland è qui ma soprattutto è qui il tanto ritardato e a un certo punto era sembrato davvero maledetto film di Uncharted la saga di videogiochi di Sony Playstation che ha fatto furore negli anni precedenti e che è diventato davvero un fenomeno insomma ci sono dei miei coetanei che hanno chiamato i figli Nathan per colpa di Nathan Drake o per merito di Nathan Drake grande personaggio ma allora andiamo subito a vedere questa incarnazione più giovane che è stata affidata Tom Holland Sony ha detto che naturalmente questa è un'altra incarnazione di Nathan Drake il Nathan Drake cinematografico non sarà quello dei videogiochi quindi non dobbiamo aspettarci una timeline troppo stretta troppo simile a quella dei videogiochi eventi e personaggi ma sarà una ispirazione che magari porterà le nuove generazioni a interessarsi ad amare Nathan Drake e tutti i suoi comprimari e le sue storie a comprare i giochi vecchi e magari a comprare dei nuovi giochi chi lo sa che magari usciranno su questa saga ah bene iniziamo quindi subito immediatamente il trailer completo anticipato da una serie di sequenze e abbiamo subito Tom Holland in una sequenza molto tombarola molto alla Indiana Jones bar Tom Brider che sta appunto esplorando una tomba con una giovane ragazza una sua compagna esploratrice che io qui mi sono segnato probabilmente è Chloe che non compare fino al secondo gioco ma come vedremo in questo caso il film gioca molto sul fatto che mette degli elementi da vari giochi della saga all'interno di questo film di origini anche se in realtà di origini di Nathan le abbiamo viste e anche ben precedenti all'età che ha Tom Holland su questo schermo ma probabilmente queste saranno le sue origini cinematografiche allora torniamo al trailer ed eccoli qua infatti la classica torcia no? che illumina le tombe e le catacombe e i nostri due eroi con lei molto sorridente che trovano sicuramente qualcosa che sarà molto importante ai fini della trama del film in questo caso visto che queste sembrano proprio tutte sequenze arrivate dalla stessa scena del film visto che lui comunque ha questa maglietta nera una mappa per un tesoro che è sempre il più classico avvio per tutti i film di avventura quindi Sony Productions e Paramount abbiamo questo Nathan Drake in formato bartender molto buffa questa scena, molto carina, molto interessante chi lo sa se è un sottocopertura oppure è proprio un lavoro che fa per piacere sembra esattamente nelle sue corde e qui c'è l'incontro che sembra essere il primo incontro ma può anche darsi che sia una scena più avanti del film dove fanno finta di non conoscersi Nathan e Sully proprio perché si introducono a probabilmente un evento di gala un'asta di Ricconi e di Danarosi quindi magari non si sa se fanno finta di non conoscersi o se è la prima volta in cui si incontrano qui abbiamo appunto il Nathan di Tom Holland e il Sully di Mark Wahlberg naturalmente senza i suoi tradizionali baffi anche se abbiamo visto che Mark Wahlberg poi i baffi li ha postati sui social quindi magari in una scena post-credito verso il finale finalmente Sully avrà i suoi tradizionali baffi allora questi due bricconi e malandrini che parlano di Ferdinando Magellano parlano di mappe, parlano di storia qui abbiamo il nostro Nathan che appunto va nel covo probabilmente in uno dei covi di Sully dove tiene delle mappe e delle indicazioni lui tutto felice e contento gli dimostra di conoscere la storia e tra l'altro vediamo, come vedete, una foto molto indicativa perché ci sarà il cattivo di cui abbiamo una foto in questo libro quindi sarà un personaggio molto noto probabilmente uno storico, un collezionista, un ex avventuriero Antonio Banderas naturalmente stiamo parlando con un personaggio più anziano probabilmente suo padre che potrebbe essere una delle chiavi del mistero che c'è in questo film ma non lanciamoci troppo avanti perché c'è il padre di Banderas che si vede soltanto in questa immagine velocissima e il fratello di Nathan che viene evocato subito da Sully sappiamo che è un personaggio che non comparirà nei videogiochi fino a molto avanti nella numerazione se non erro il quarto perdonatemi perché li ho giocati tutti ma all'epoca dell'uscita quindi non vorrei sbagliarmi se mi sbaglio correggetemi ma qui invece è utilizzato subito come appiglio per tirare Nathan dentro l'azione al di là dei tesori e dell'oro ecco io devo dire che qui mi sembra una cosa molto intelligente mi sembra già un film molto orientato ai sequel molto alla saga perché si buttano là delle nozioni che probabilmente vedremo soltanto in un sequel quindi personaggi che crescono, che si sviluppano, che cambiano anche esteticamente dicevamo dei baffi di Sully ma probabilmente il fratello di Tom Holland quindi Nathan che non vedremo probabilmente fino ad un probabile sequel ma che sarà magari il motore degli eventi perché lui lo cerca in questo film poi abbiamo questa mappa che più che una mappa è ovviamente una piantina di un edificio sicuramente quello dove si intrufolano loro per fare un colpo e rubare qualcosa quindi quando li vediamo vestiti in maniera elegante qui in basso abbiamo una croce che probabilmente sarà l'artefatto che devono rubare, recuperare per arrivare nel livello successivo no scherzo, nella location successiva nella sequenza successiva del film e quindi abbiamo i nostri due amici che sccomplottano poi il famoso anello di Nathan Drake il famoso anello appartenuto al pirata Drake con cui Nathan millanta una parentela che poi invece scopriremo insomma che non è proprio così qui chi lo sa come vorranno usare quell'anello di certo l'anello sarà importantissimo perché lo vediamo in moltissime scene e glielo vediamo al collo al nostro caro Nathan quindi probabilmente l'anello ricoprirà un ruolo molto importante anche in questa pellicola bene poi abbiamo location esotiche motoscafi, mare, Tom Holland che sfoggia il fisico non proprio un fisicaccio insomma alla Liam eh sì alla Liam alla Chris Hemsworth scusate ma i fratelli ogni tanto me li sbaglio fra di loro però dai ci sta ok no non proprio sembra sempre un ballerino di musical però va bene così basta anche con questi protagonisti super smuscolosi eccetera lo dicevamo anche ieri sera su Lega Nerd quando si commentavano dei post insomma Indiana Jones John McClane non erano strafisicati però menavano nuotavano facevano tutte quelle cose incredibili che si fanno nei film d'azione di avventura e non c'era bisogno di avere il fisico di Thor o di Capitano America ok quindi ce la possono fare ce la può fare anche il nostro Tom ecco qui ricorda molto il videogioco insomma il look and feel il galeone scomparso e ritrovato all'interno di una grotta anche qui ricorda molto il quarto videogioco naturalmente Thief Sand la fine di un ladro insomma chiamatelo come volete e insomma il feeling del videogioco c'è 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 qui abbiamo l'anello insomma ancora qui location un po' in giro per il mondo questa dovrebbe essere Chloe appunto la ragazza con cui lo abbiamo visto abbiamo visto Tom Holland Drake all'inizio e lei non compariva prima del secondo videogioco faceva un po' la fan fatal qui sembra un po' la donna che ne sa di più di lui soprattutto su Sally che ovviamente non sarà la persona che racconta di essere notare sempre le espressioni di Mark Wahlberg alla Mark Wahlberg e quindi poi un inseguimento sui tetti un po' di parkour un po' di tuffi insomma ed ecco il nostro Antonio Banderas su questa bellissima automobile rossa dicevamo appunto è poi questa croce che probabilmente è quello che loro devono rubare durante la sequenza d'azione probabilmente sarà al centro della pellicola Banderas non sappiamo qual è il nome di questo personaggio del suo cattivo probabilmente sarà un incrocio tra Roman e Navarro del primo videogioco insomma vedremo naturalmente e qui c'è il dialogo naturalmente tra i due io sono un collezionista mi diletto io non mi diletto qui abbiamo Sally con la giacca dello staff vedete qui non ha più il tuxedo scusatemi lo smoking del del ricevimento ma probabilmente cerca di farsi passare con il nuovo dello staff ma non ci riesce benissimo perché subito questo personaggio che credo sia stato creato appositamente dal film di questa attrice che tra l'altro abbiamo appena visto anche in You la terza stagione lo sgama immediatamente e lo prende ostaggio quindi vediamo che lei sarà proprio una delle principali condottiere del gruppo dei cattivacci che vogliono sottrarre il famoso tesoro introvabile inestimabile a Nathan e company una bella sequenza d'azione sempre qui sicuramente si tiene qua in questa sequenza in questo famoso ricevimento barra asta super danarosa sequenza questa invece non toccarti l'orecchio quando parli dell'auricolare sembri uno scemo scena tra l'altro già fatta in James Bond 007 Casino Royale quando Bond lo dice al suo collega e ancora un po' di scene d'azione varie qui un Tom Holland super Nathan Drake al 100% e naturalmente la fortuna aiuta gli audaci i cattivi che arrivano in aereo scene subacque codici segreti con l'inchiostro simpatico quindi niente di proprio super eclatante niente di incredibilmente impossibile da trovare però insomma ecco codici segreti che il fratello Sam lascia a Nathan ancora un po' di grotte di chiavi da girare contemporaneamente all'interno di altari in alcune cripte aereo l'aereo l'aereo allora parliamo della scena dell'aereo la scena dell'aereo arriva direttamente dal terzo capitolo del videogioco se non ricordo male quindi a conferma del fatto che ci sono un po' tutti i videogiochi mischiati insieme tra personaggi location l'isola del primo Nathan Drake Drake Fortune e questa scena dell'aereo super spettacolare forse fin troppo cioè in un videogioco funziona benissimo in un film non lo so sì sicuramente funzionerà benissimo ma per carità e quindi ecco sequenza dell'aereo incredibile dove ovviamente per arrivare sull'isola sperduta tutti corrono e si rincorrono lui salterà sicuramente sulla l'aereo del cattivo che va là in maniera clandestina poi scombattono partono giù tutti appunto questi pacchi giganteschi con vabbè non vi faccio spoiler però insomma questa scena poi si risolve in una certa maniera per far salvare Nathan i cattivi invece molti di loro non si salvano perché lui salta sull'aereo ma poi gli arriva in fazza dopo i titoli naturalmente l'automobile vabbè qui c'è una scenetta scusatemi che in italiano è veramente resa malissimo perché questo personaggio questo cattivo ha un accento scozzese fortissimo che lo rende praticamente incomprensibile in italiano lo fanno parlare velocissimo con una sorta di scioglilingua che non rende assolutamente mi dispiace per gli adattatori per il doppiaggio per i doppiatori italiani che io rispetto tra l'altro Mark Wahlberg ha il doppiatore di Berlino della Casa di Carta Alessandro Quarta se non sbaglio che è anche la voce di Topolino nella Casa di Topolino tutti questi incroci incredibili di doppiatori italiani non mi dice moltissimo per esempio Quarta su Berlino è perfetto su Sally Wahlberg così vabbè comunque doppiaggio lo scopriremo soltanto vivendo e un po' di schiaffi dopo questa scenetta di lui la gag ancora schiaffi e poi l'automobile di Banderas con cui l'abbiamo visto arrivare al ricevimento di gala arriva in faccia a Nathan mentre sta per risalire sull'aereo quindi chiaramente l'aereo è dei cattivi e Nathan cade giù non vi dirò come si salva se non avete giocato al videogioco ma chiaramente è implicito che si salva però non voglio farvi spoiler febbraio 2022 Nathan Drake ovvero Uncharted finalmente lo vedremo al cinema queste sono alcune delle cose che abbiamo visto subito adesso il trailer ha droppato pochissimo fa vi è piaciuto questo video pollice su altrimenti pollice giù ma commentate avete visto qualcos'altro avete visto qualcos'altro che arriva da altri videogiochi volete dire la vostra se vi piace Tom Holland Mark Wahlberg gli altri attori ci vediamo qui sotto nei commenti da Giacomo è tutto segui leganerd clicca iscriviti e attiva la campanella ci vediamo alla prossima